Vogliamo la cosa più costosa che vendete! Wow! Aspetta! Buon appetito! Grazie, tesoro! Dobbiamo andare! Biglietti? Erano qui? Dammi un minuto! Ti assicuro che li ho! Si sono persi nella mia goda! Fai con calma! Va tutto bene! Ehi tu! Guarda! Questa vacanza è solo nei tuoi sogni più sfrenati! Questo è crudele! Ignoralo! E' un altro moccioso viziato! Togliti la parrucca! Ai! Fa male! Non nel mio cinema, ragazzo! Loop temporale! Che succede? Il dottor Strange ristabilirà la giustizia! Era ora che imparassi la lezione! Questo è per te, signorina! Buon divertimento! Wow! Guarda un po'! Ora sì che si ragiona! Facciamo ripartire il tempo! Ecco i biglietti! Bello! Cosa? I miei snack! Oh! Ecco il tuo biglietto! Io devo andare! Cosa è lì? Caramelle? Non puoi portarle dentro! E cosa facciamo? Va bene! Vi farò entrare comunque! Buon film! Ora occupiamoci di te! Il mio biglietto! Mi scusi, piangere non è permesso qui! Non è giusto! Dieci anni dopo! Spider Girl! Ehi là! Ciao Gwen! Madame Web! Non crederai mai a questo fantastico posto per allenarsi che ha trovato! Green Goblin! Ehi ragazze! Non ha alcun diritto di stare qui! Mi stanno di nuovo escludendo! Guarda! C'è il Dottor Strange! Ciao! Cosa? Grazie mille per aver trovato il mio mantello! Ehi! Ehi! Dovremmo andare! Ehi! Ehi! Perché sono lì? Cosa sarà? Ehm! Cosa? Non importa! Ok, vi prendi! Posso partecipare? Ehi ragazzi! Pensate che non vogliono uscire con me? Scrivetelo qui sotto! Ho bisogno di qualche amico! Salve! L'esplorazione dei vostri superpoteri è all'ordine del giorno di oggi! Goblin inizia tu! Io? Va bene! Alzati! Bene! Ehi! Siediti sulla scrivania per ora! Tieni questo! È pesante! Non per me! È il mio superpotere! Beh! Ho capito! Spettacolare, vero? Non voglio mentire! Il superpotere è elementare! Ti do due punti! Due punti! È ingiusto! Perché sei così nervoso? Il mio superpotere è unico! Stai bene? Ah! Non chiedermelo! Il prossimo è... Tu! E io! Nessun problema! Togliamo le scrivanie! Ci serve più spazio! Ecco l'obiettivo! Wow! Colpirò il bersaglio! Ehi! Ops! Mancato! Però è stato divertente! Sì! Lo è stato! Tornerò per prendervi! Metto alla prova il mio superpotere! Cosa ti riserva il futuro? Ci siamo quasi! Accidenti! La mia testa! Stai camminando nel corridoio! Scivoli, cadi e tutti ridono! È isterico! Aiuto! Sta cadendo! Esprimi un desiderio! È un goblin cadente! Questo è il mio superpotere! Cadere ovunque! Il mio superpotere è unico! Smettete di ridacchiare! Non può continuare così! Sono arrabbiato! Oh! Sembra scontroso! Bisogna agire! Sembri così tranquillo sui morbidi cuscini! Proprio così! Calma! Ragazze, venite! Lasciatelo da solo a fare un pisolino! Andiamo! Cos'è? Fammi vedere! No! Oh! Madame Web! Attimo parcheggio! Ehi, Gwen! Vieni! Devi vederlo! Ho preparato un nuovo progetto! Interessante! Voglio vederlo anch'io! Il talent show è iniziato! Oh cielo! Solo supereroi! Ragazzi, partecipate! Grazie! Sono super gasata! Vi adoro! Ci abbiamo messo un po'? Grazie! La vittoria è incredibile! Vittoria! Ehi, là! Ah! State delirando! Questo vi tirerà su di morale! Guarda i suoi baffi! Né gelato, né vittoria! Una gara richiede molta preparazione! Intrecciare una ragnatela! Allenamenti di potenza! Posa spettacolare! Gwen, ho delle ciambelle! E un buon caffè! Ho da fare! Oh, Webb! Ho ciambelle e caffè! Ne vuoi un po'? Webb! Caffè e ciambelle! Ehi! Ehi! Sto parlando con te! Ehi! 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 Sono nel bel mezzo di un film! Basta! Ne ho abbastanza di te! Fattene! Finalmente! Dov'ero rimasta? Mi cacciano di nuovo! Wow! Goblin! Tempismo perfetto! Dottor Strange! Anch'io sono felice di vederti! Cosa? Ciambella! È proprio quello che ci vuole! Voleva solo la ciambella! Basta! Ho chiuso! Ho scritto la formula chimica da qualche parte! Oh, sì! Chi è il miglior supereroe del college? Io, ovviamente! Si divertono come matti! Ma non per molto! Potrei guardarlo per sempre! E' divertente! E' divertente! Fantastico! Vi è piaciuto? Volete vedere un altro trucchetto? Guardate! Wow! Meraviglioso! Ma come ci riesci? Magia! Qual è il suo problema? Anch'io so fare trucchi di magia! Guardate qui! Abracadabra! Non male! Cavolo! Carino! Oh! Mi è caduta una moneta! La vedo! Eccola! Senza fretta! Prese! Eccola! Ma dove sono andati tutti? Dove siete? Andrò a cercarli! Ehi, ragazze verdi e soffici! Avete visto queste ragazze? No! No! Continuerò a cercare! Dov'è il mio regalo? Ehi, ragazzi! Prendetevi una pausa dalla battaglia! Le avete viste? E tu? Nemmeno io! Mi dispiace! Ma dove sono? Resta concentrato! Ciao! Salve! Sapete chi è questo? Scrivete qui sotto se lo sapete! Ovviamente sono tornato indietro nel tempo! Ho voglia di gomme da masticare! Gnammi! Da questo momento siete in mio potere! Goblin! Prendi questo! Ragnatela! È ridicolo! Ops! Hai! Goblin malvagio! Basta scherzare! Alle capsule! Come osi! Che ne pentirai! Sei sempre lo stesso ragazzino malvagio! Pompaggio timico attivato! Sento cielo! Non mi sento bene! Mi giro la testa! Finalmente un po' di attenzione! Hai la mia gamba! Stupida pietra! È pesante! Ho bisogno di tutto il mutageno per ottenere il superpotere! Sì! Ora posso fare qualsiasi cosa! E io sono l'onnipotente! Allora chi è il bambino malvagio? Perché sei qui? Ai! Perdente! Cosa? D'ora in poi farai tutto quello che dico io! Dai una lezione al Goblin! Fantastico! Ho bisogno di qualcuno che mi copra le spalle! Ah! È esilarante! Prendi questo! Mancato! Eccomi! Mancato di nuovo! Un altro? Giochi con la persona sbagliata, Goblin! Andiamo! Vuole aprire la capsula! Il martello mi aiuterà! Ehi! No! È questo! Inutile! Non sa fare proprio nulla! Ups! Siamo libere! Gwen! Sbrigati! Dobbiamo fermarlo! Magia dell'amicizia! Prendi questo! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Dobbiamo sistemare le cose in sospeso! Torniamo a essere bambini! Fateci entrare! Abbiamo i biglietti! Assolutamente no! Gli elementi sono nella lista nera del cinema! Voglio vedere un film! Ai! Scotia! È orribile! Oh! Smettetela! State bloccando la fila! Non vi farò entrare comunque! Qual è il problema? Perché i bambini non sono ancora dentro? Gli elementi non possono entrare! Ah! Ho capito! Ecco! Non vi faccio entrare! Ok! Qualche caramella? Eh? Anche le caramelle non sono ammesse! Oh! Capisco! Dai un'occhiata qui! Non si può toccare! Bello, vero? Ecco a te! È un regalo per te! Accidenti! Ragazzi, entrate! Muovetevi! Ehi, io! Sono così felice! Ehi, Amber! Ehi, Wade! Adorabile! Ehi, Ciclonia! Ciao, ragazzi! Allora, come va? Li saluterò anch'io! Ehi, come va? Battete il cinque? Battete cinque! Esterico! Esilarante! Ma che c'è? Sei ancora qui? Me ne vado! Sfigato! Non la passerete, Lesha! Attacco di egera! Cosa? Wade, attento! Non preoccuparti! Per me è una passeggiata nel parco! Che forbezia! Una rinfrescante doccia d'addio! Se ne pentiranno! Cosa dice il libro degli elementi? L'aria, il fuoco, l'acqua e la terra insieme formano il fuoco blu! Che è pieno di potere! Ora so cosa fare! L'armadietto di Amber! Un posto perfetto per una trappola! Sì, lo so! Ma certo! Eccola! Arrivo! Cos'è stato? Mi sto solo immaginando le cose! Ai! La mia mano! Mi fa male! Sta arrivando qualcuno! Devo nascondermi! Ciclonia! Presa! Indietro! È sparita! Hanno letteralmente la testa tra le nuvole! Sono furioso! Wade! È lui! Ciao! Ciao! Come va? Attacco della terra! Perfetto! Stai bene? Stai bene? Il gioco è finito per te! Ecco! Contrattacco! Potenza del fuoco! Aiutami! Ma dove sono? Aromadietti ovunque! Cos'è questo misterioso ticchettio? Un orologio? Ciclonia starà guardando l'ora! Ora ti prendo a colcine... No! Un piano migliore! Mi butterò a capofitto! Cosa? Dinamite! Disinnesco la bomba! Una domanda importante! Qual è il filo giusto? Ragazzi, scrivete qui sotto quali filo devo tagliare! Rosso! Forza! Veloci! Grazie! Ciclonia si starà nascondendo qui! È per te! Ah! È la mia mano! Sono pietrificata! C'è qualcuno! Ne sono certo! L'aspirapolvere è l'arma migliore contro i cattivi! Gli elementi dell'aria! Oh no! Oh! Si è bloccato! Il peggior tempismo di sempre! Ups! Tu! Come osi! È un vero uragano! C'è della polvere nei miei polmoni! Una trappola della palude! Sì! Ha funzionato! L'elemento aria è mio! Allora, chi è la prossima vittima? Ehi là! C'è qualcuno? Beccato! Uomo d'acqua! Ti pentirai di avermi dato nel perdente! Ai! Cos'è stato? Colpa mia! Perdente è epico! Ti sento! L'acqua conduce molto bene l'elettricità! Vediamo! Hai bisogno di una mano! Ti aiuto io! Ho portato una spugna! Vai nel secchio e resta lì! Ora hai un compagno di stanza! Congratulazioni! Amico, esci da lì! Stai bene? Ciao! Sei un cattivo! Che bella riunione! Ma sta per finire! È così spaventoso! Mi ha fatto venire una gran fame! Scrivete qui sotto i vostri snack preferiti! Oh, è arrivato! E sta... Fischiettando? Sparco la in crisi! Devo solo tirarla fuori! Per prima cosa prendo la legna per il fuoco! Bene! I fiammiferi! Accendiamo il fuoco! Accidenti! Ho rischiato di prendere fuoco! Bisogna stare attenti al fuoco! Brucia bene! Ha un odore familiare! È fuoco! Che si nasconde nell'armadietto? Mi hai davvero rotto le scatole! Oh, calmati, scintilla! Non mi sento molto bene! Tu vieni con me! Tutti gli elementi sono dentro! Ember, stai bene? Il mio piano è stato un successo! Cosa? Aspettate! Ecco! Cosa? Oh, ehm... Qui! Oh no! Non c'è scampo! Stai alla larga! Vai tu per primo! Aspetta! Ho bisogno del tuo potere! Non mi sento molto bene! Oh no! Pagherai per questo! Come osi fare del male ai miei amici? Stai ferma! Ho bisogno di una tua scintilla! No! Ember! Wade! Che tristezza! Ora tocca a te! Ok! Oh sì! Ha funzionato! Ora unisco tutti gli ingredienti! E l'ultimo è la terra! Oh sì! Ci siamo! Ce l'ho fatta! Ho il potere! La mia testa! Cavolo! Così non va! Ciclonia! Svegliati! Ember! Wade! Sento qualcosa! Cos'è questo? Insieme possiamo spostare le montagne! Liberiamo gli elementi! Cos'è questa confusione? I nostri poteri sono uniti! Ce l'abbiamo fatta! Il nome del bene! Tutto è tornato come prima! La domanda è... Come usciamo? Lasciate fare a me! Tutti fuori! Il tuo comportamento è stato meschino! Fatemi uscire! Ciao ciao! Perché sono così cattivi con me? Mi hanno sempre disprezzato! Fin da bambino! Hai vinto! Puoi entrare? Voi restate lì! Perché? Gli elementi non possono entrare! Niente fuoco! Niente acqua! Niente terra! Piangi pure! Adoro il popcorn! Ora basta! Non entrerei! Non sperarci troppo, nanetto! Non farti strane idee! Come osi minacciare la mia piccola? Andiamo a casa, scintilla! Ciao, Amber! Posso avere un addogno? E una bevanda alla lava per me? Arrivo subito! Compra una luce e ne ricevi una gratis! Ne prendo subito una gratis! No, non funziona così! Voglio una luce! No! Prima devi comprarne una! Amber! La mia dea del fuoco! Ecco fatto! Allarme antincendi! Amber! Questa è per te! Mia regina! Oh, grazie, amico! Ma purtroppo siamo troppo diversi! Ora devo pulire l'acqua sporca! Accidenti! Il flusso mi ha davvero trasportato? Che cos'è tutto questo urlare? Ciao, sono Amber! Sono Wade! Sei così... Infiante? Oh, quello è mio padre! Sarebbe meglio che non ti vedesse! Ah, ciao! Com'è andata la giornata? Vattene subito da qui! Papà, dai! Fammi vedere ancora una volta come fai i frullati di lava! Ciao! Ciao! A proposito, ho ideato una nuova promozione! Papà, ecco una nuova fornitura! Grazie, tesoro! Cubetti perfetti! Consegna fiori! Da chi? Hai ordinato dei fiori? Ci deve essere stato un equivoco! Io non ti pago! Casa! Wade! Aspetta! Non sono stato io a ordinare i fiori! Ci penserò io, tesoro! Wow! Sono per me! Grazie! Usciamo di nascosto! Così papà non sentirà nulla! Ma quante volte devo dire che i fiori non sono miei! Eh, ciao papà! Riportali indietro! Oh, sono spariti! Beh, addio! Il vostro ordine! Oh, grazie! Wade, provalo! Attento però, scoppa! Allora, è buono? Sì! Acqua, subito! Ops! Era così gustoso! Ti tengo d'occhio, uomo acqua! Sono una grande fan del film! Quell'uomo acqua cattivo si sta prendendo gioco della mia scimpilla! Lo sistemerò per bene! Che te ne pare, cascata ambulante? Mi scusi, ma sembra che un ragazzo blu abbia portato delle caramelle! Ah? Un infranci regolo! Peccato, amico! Gli snack sono vietati! Ma non sono mie! Sono stato incastrato! Wade, aspetta! L'appuntamento è finito! Oh, Wade! Ender, questo è per te, mia regina! Oh, ancora quel cespuglio! Luci? No! Ehm, ok! Oh, i carboni sono caldissimi! I miei poveri rami! Ehi, Amber! Guardami! Guarda, anch'io posso creare il fuoco! Ehi, ragazzi! Non fatelo! È molto pericoloso! Non fatelo mai! Cosa? Stiamo andando a fuoco! Porca miseria, che succede? Esci dal mio negozio, piromane! Ah, piccioncini! Vi state conoscendo meglio, eh? Devo sistemare gli scatoloni! Lascia che ti aiuti a innappiare le piante! Guarda! È muschio, questo? Beh, grazie! Devo radermi di nuovo! Sei così carino! Potresti darmi una mano con le scatole? Lo scaffale è laggiù! Ok! Nessun problema! Vai, mia edera! Wade, stai bene? Ho bagnato tutte le scatole! Non è un problema! Non importa! Sono cose che capitano! Amber! Sei così carina! Tu sei così carino! Amber! Stiamo andando a fuoco! Oh, cavolo! Cosa facciamo? Come si spegne un incendio? Ragazzi, scrivete qui sotto come dovremmo spegnere l'incendio! Cosa? Ah? Ovvio! Sono acqua, dopo tutto! Bel lavoro, Wade! Sei il migliore! Acqua più fuoco? Uguale amore! Cosa? Il vostro amore è incompatibile, perdente bagnato! Ehi, ridammelo! È mio! Allora chi è il perdente bagnato adesso? Ci siamo! La mia pazienza ha un limite! Ehi! Smettila di sputare! Aiuto! Ops! Scusa! Ciao, papà! Scintilla, metti in mostra la merce! Wade! Ehi! Ai! Troppo vicino! Peccati! Cosa? Questo dovrebbe essere qui, papà! Scusa, devo aver fatto confusione! E quello cos'è? Lo sapevo! Amber e Wade! Solo sul mio cadavere! Lascia stare mia figlia! Non vi sosterrò mai! Cosa ti passa per la testa, tesoro? Tu! Non voglio più vedere una sola goccia di te qui! Il fuoco e l'acqua non vanno d'accordo! È sbagliato! Sparisci! Wade! Tu resta in camera tua! Sei in punizione, ragazza! E consegnami il telefono! No! Telefono! Ora! Togliti dalla testa l'uomo acqua! Non ti è permesso lasciare la tua stanza! Ragazzi, siete mai stati in punizione? Scrivetelo qui sotto! Dove sono? Oddio, quello è un albero con le mie foto! Ehi! Chi è stato? Parla! Ehi, mia regina! Sposta i tuoi rami! E fammi uscire di qui! Wade mi salverà comunque! Finiscila con il tuo patetico uomo acqua! Allora cosa vorresti fare? Ti metterai un abito da sposa e mi sposerai! Casa! Non esiste! Invece succederà! E ci sposeremo presto! Tic-tac! 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 Non voglio sposarmi! Ember, ti ho portato la cena! Te la metto qui! Forza, Ember! Tirati su! Cosa? Non è Ember! È lui! Oh, il ciclo naturale dell'acqua! Uomo acqua! Dov'è mia figlia? Sputa il rospo! Oh, Ember! Cosa? Questo ragazzo è innamorato pazzo della mia scintilla! Cos'è successo? Ember è scomparsa! Scomparsa? La troverò! Vuoi tu, Claude, prendere Ember come tua legittima sposa? Sì, lo voglio! Vuoi tu, Ember, prendere Claude come tuo legittimo sposo? Wade! Lei non vuole! E chi è questo? Oh, scopritelo da soli! No, brutto lombrico! Lei è mia! Lo vedremo, verme! Oh, no! Attimo lavoro! Yes! Ember! Sono pazza di te, Wade! Andiamo a casa! Papà! Tesoro! Oh, eccoti qui! Papà! La mia scintilla! Sono così felice! Ember? Mi vuoi sposare? Lo voglio! Sono al settimo cielo! Anche io! Eh, papà! Benedico il vostro matrimonio! Oh, papà! Lo faccio anche io! Wade! Non avresti dovuto! Allora... Come qua e buono! E allora! E allora!